Ciao ragazze, oggi vediamo assieme come avere capelli super lisci senza l'uso della piastra Prima però, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale mi raccomando e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come lo appuntovero Questi sono i miei capelli lavati e asciugati, non li ho ancora stirati con il phon La stiratura può avvenire in due modi, o da capello asciutto o da capello bagnato L'importante è che quando il capello è bagnato, lo pettinate con un pettine di legno a denti larghi Il pettine di legno serve per non far sì che i capelli diventino elettrostatici Che siano asciutti o che siano bagnati, la spazzola che utilizzo per lo stiramento col phon è questa qua cilindrica Mi raccomando, io ho già provato quella più piccola, di più piccole dimensioni rispetto a questa qua Ma non mi trovo bene, perché tende a non lisciare il capello ma rendelo molto voluminoso, poco gestibile Insomma, non mi trovo assolutamente bene, mentre con questa è un vero portento E qualsiasi tipo di capello lo riesce a stirare molto molto bene Incominciamo a stirare i capelli dalla parte bassa della testa Quindi raccogliamo i capelli, questi qua superiori o con un elastico facendo una scignone o con delle pinze Come procediamo? Dobbiamo prendere una ciocca di capelli, così Prendiamo la spazzola e la mettiamo sotto, vedete così E poi si attorciglia, così Si tira su e poi con il phon si stira Adesso vi faccio vedere meglio Adesso vi faccio vedere meglio Adesso vi faccio vedere meglio Poi una volta che ho finito di stirare una parte La spazzolo con una spazzola in legno A testa grande Così, non so come si chiamano però Per intenderci, che non è quella ovale O quella più stretta E questa qua, bella spessa Bella, vedete che è inquadrata E di spazzolo Procedo poi Con un'altra parte Un'altra porzione di testa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo mio video vi sia stato utile in modo tale che adesso non sciupate più i vostri capelli solo con l'uso della piastra per averli lisci perfetti ma possiate utilizzare anche voi spazzole phone. Mi raccomando iscrivetevi al mio canale e alla prossima! Aloha!